Signori siamo sull'estrazione del contest dei mille iscritti, quello che volete, dei 3 iPhone vi ricordo un commento valido a testa, chi avrà più di un commento verrà scartato cominciamo, che dite? 64 commenti contro i 407 dell'altra volta nel primo primo contest questo vuol dire che la gente non era interessata, infatti quelli che sono rimasti sono i più fedeli e meritano di essere pregnati cominciamo? il primo a vincere sono io che non conto perché vabbè, due commenti ho risposto il primo vero vincitore è Carmine Furlano, Carmine hai vinto un bellissimo iPhone X scrivimi subito appena vedi questo video nella mia pagina Instagram che trovi in descrizione nella mia pagina Facebook che trovi sempre in descrizione, complimentoni continuiamo, vado molto veloce perché il tempo mio sta per scadere che devo andare a fare una visita quindi ho poco tempo, pochi minuti, devo editarlo, metterlo online eccetera eccetera secondo vincitore vede il vincitore quindi dell'iPhone XS sempre io, quindi non conto Johnny della Valle, ma Johnny della Valle sembra uno che ne so, della pubblicità dei Fonzis una roba così, la mica chips ciao sono Johnny della Valle questo è un bel nome secondo me va bene, un commento valido ovviamente con scritto partecipo quindi validissimo e complimenti hai vinto un iPhone XS anche tu fai pagina Facebook o Instagram in descrizione, scrivimi subito vincitore dell'iPhone XS Max, The Real Rose X siamo fottuti perché qua ovviamente il video andava condiviso, quindi io lo annullo in questo caso mi dispiace Real Rose X, mi dispiace moltissimo davvero quindi ricominciamo, vincitore dell'iPhone XS Max killer minchia, sembra quasi una minaccia killer, complimenti sei veramente sculatissimo e hai vinto un iPhone XS Max verranno spediti ovviamente tutti lo stesso giorno quindi man mano che verranno assegnati lo saprete scrivetemi subito nella mia pagina Instagram o Facebook preferisco Instagram perché sono un pochino più attivo direi di fare anche i vincitori di riserva dei vari iPhone allora, vincitore di riserva dell'iPhone X nel caso non venga ritirato Gemma Rugani, ecco Gemma Gemma, complimenti anche a te per essere comunque di riserva non hai né perso né vinto per ora ma nel caso non venga ritirato entro tre giorni l'iPhone X sarai tu a ritirarlo scrivimi subito a una pagina Facebook o di Instagram e ti dirò se è assegnato o no vincitore dell'iPhone XS di riserva ho cliccato Alessandro Belli, complimenti anche a te Alessandro sei il vincitore di riserva dell'iPhone XS Instagram e Facebook anche tu così ci sentiamo XS Max di riserva, signori miei Angry Games questo è un bel nome anche, è molto simpatico come Angry Games, ma Angry Games è anche una parodia se non erro comunque, vincitore anche tu per ora solo di riserva ma comunque non c'è paura nel cuore di chi non molla detto ciò signori, iscrivetevi tutti grazie per aver visto questo video grazie per aver partecipato al contest ci cacciamo, ci cacciamo, ci cacciamo grazie per aver guardato il video grazie per aver guardato il video grazie per aver guardato il video